L'impressione è un'impressione di un comune che richiede certamente un'attenzione e richiede un'opera di verifica assolutamente complessa e completa. Quali potranno essere gli esiti di queste verifiche? Purtroppo è ancora presto per dirle e quindi è ancora presto per dire quali potranno essere le decisioni che verranno assunte. Certamente queste decisioni dovranno scaturire da un'analisi che cercherò di compiere nel più breve tempo possibile. È chiaro che di fronte a degli esiti che siano oggettivamente caratterizzati in un senso o nell'altro le mie decisioni saranno un po' più semplici perché dovrò seguire quelli che sono i principi fondamentali a cui l'opera commissariale si deve ispirare. Viceversa, qualora invece venissero fuori delle alternative e delle valutazioni più approfondite che richiedono una legittimazione più radicata, allora è chiaro che sarà mio compito creare la situazione, dare tutti gli elementi perché chi verrà poi eletto valuti questi elementi in maniera assolutamente politica nel senso più puro del termine, quindi nell'interesse che sarà ritenuto prevalente alla cittadinanza. Sia a tutela dei cittadini, sia a tutela degli amministratori, credo che sia un comune interesse quello di verificare l'effettività delle cose e consegnare all'amministrazione che si insederà un patrimonio conoscitivo quanto più possibile chiaro e certo su cui fondare un'attività di tutela che chiaramente i cittadini di Brolo meritano. Grazie a tutti.